Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo a San Damaso e vi presento questa porzione di villa da ristrutturare su tre livelli, così composta. Al piano terra abbiamo garage doppio, lavanderia, ampio magazzino, due giardini, uno sul fronte e uno sul retro. Al primo piano si sviluppa l'appartamento ed è così composto. Ampio salone, cucina abitabile, balcone, tre camere da letto e bagno. Buongiorno a tutti. Al secondo piano troviamo un'ampia soffitta abitabile che prende tutta la superficie del appartamento e tutti i visi in tre mani. L'immobile a due ingressi. Vi lascio il link qui sotto in descrizione e potete chiamarci per tutte le informazioni. Grazie. 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 Grazie.